Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buonasera ragazzi come state tutto a posto? Allora ragazzi stiamo facendo simulazione esami cicci merci la scheda numero 66 ok? double six perché abbiamo fatto, lo vedete che ci sono i numeri no? ecco qua 66 perché abbiamo fatto da 1 fino a 65 quella ultima che abbiamo fatto era 65 adesso dobbiamo fare 66 ok? quindi consiste 120 schede abbiamo fatto 65 adesso dobbiamo fare 66 poi ancora dobbiamo fare tutti quelli che sono rimasti scrivetevi, condividete ai vostri amici intanto scrivere non costa nulla ok? iniziamo subito cari amici ha messa la tolorenza di sovraccarico per il transbordo di benzina purché nei limiti del 5% della massa complessiva a pieno carico emissibile del veicolo falso perché la merce pericolosa non deve essere messa oltre i limiti previsti ok? falso i vettori impressi di transbordo su strada sono impressi che possono assumere dimensione e forme giuridiche diverse vero? i serbatoi dell'impianto frenante pneumatico immagazzinano l'aria generata durante la fase di compressione nei cilindri del motore generata durante la fase di... falso in salita a varietà di pendenza all'aumentare del motore il riservatoi dell'impianto frenante pneumatico immagazzinano l'aria generata durante la fase di compressione nei cilindri del motore generata durante la fase di... falso può essere vero eh? in salita a varietà di pendenza all'aumentare del carico è necessario inserire una marcia più passa vero? e in un motore indetermico l'andamento della curva di potenza all'aumentare del numero di giri di prima crescente raggiunge un valore massimo e poi decresce vero? la corretta alimentazione di un condicente consiste in cibi grassi per un maggior apporto energetico? falso ok andiamo veloce secondo la normativa ADR per veicolo chiuso si intende un veicolo con centine e tolena smontabile chiuso centine no falso la maragioana accorce il tempo di reazione falso perché aumenta e allunga non accorce falso ok andiamo sta andando piano piano cavolo durante l'attività professionale il condicente può essere esposta intossicazione per inquinamento ambientale vero? ok per trasportare i rifiuti è sufficiente che l'impresa sia scritta all'album nazionale dell'eotransportatore? falso percorrendo le discese è necessaria una maggior forza di trazione discesa una maggior forza di trazione falso una salita che serve la forza l'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extra UE che si presenta attraverso un un valico di frontiera e siano in possesso di un spassoporto o d'altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento della frontiera vero? si stima che i veicoli ibridi emettono nell'atmosfera circa il 53 dell'anidride carbonica emesse da un motore a benzina allora 53 era? o 10? secondo me è vero vediamo prima dell'inizio del viaggio prima dell'inizio del viaggio nel foglio di registrazione di un tachigrafico analogico il condicente deve scrivere la data di partenza vero? per forza? nel contratto di trasporto a porto assegnato il preso e pagato del destinatario vero? perché porto affrancato paga il mittente porto assegnato paga il destinatario ok? l'ospedizionario per svolgere tale attività sempre in forma di impresa deve possedere prescritti requisiti morali, professionali e finanziari secondo me è vero? per il trasporto di merce italiane verso il portogallo necessita il documento doganale transito T2 falso? la postura del condicente è corretta se durante la guida il posto è inclinato in avanti falso? non in avanti i sistemi telematici per trasporto possono permettere al gestore di flotte di conoscere la situazione dei veicoli o mezzi determinati e le rotte più efficienti è sicuro? falso vediamo al termine della giornata lavorativa la carta tachigrafica del condicente deve essere sterata veicolo fermo vero? un veicolo si dice in sovracterso quando ad esempio per motivi di carico tende ad avviare l'atterizzatore verso l'interno della curva e curva di più sovraccarico interno sottocarico esterno vero? i sistemi telematici per trasporto possono permettere il condicente di scegliere o utilizzare le varie opportunità di viaggio secondo i suoi desideri e la sua posizione telematici falso tra le abitudine richieste per la guida è inutile la coordinazione sensori motrice falso? aspetta inutile falso l'opressione di carico del veicolo devono essere effettuato con la massima attenzione avendo cura di posizionare e ancorare correttamente la marcia da trasportare vero? il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza dell'impianto frenante allora l'impianto frenante l'impianto frenante incide l'impianto frenante sospensione ma non l'impianto frenante secondo me falso non lo so allora se il vettore riferisce all'autorità di frontiere dell'eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare rischia di incorrere nel reato dell'azione falso l'assunzione di marugiana migliora la riattività del condicente falso i container e le case mobili sono trasporti esclusivamente tramite veicolo stradale falso in presenza di infortuni o con trauma cranico occorre tenere conto che possono essere presenti lesioni molto gravi con danni cerebrali vero? l'eccessivo gioco dello sterzo può dipendere dalla ossura del giunto cardanico dell'albero di trasmissione falso quando il carico sborge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo i pannelli di segnalazione devono essere almeno 4 falso l'accente ha liberalizzato i trasporti per conto di terzi di merce e persone esclusivamente negli stati o è falso? il primo soccorso non è un obbligo giuridico falso? il condicente di un veicolo pesante superando bedoni e ciclisti deve tenersi ad adeguatarsi a distanze laterali di essi vero? i colli devono essere sistemati in modo che non si spostino durante la marcia del veicolo vero? il limitatore di velocità è obbligatorio per i veicoli della categoria M2 M3 è consigliato per i veicoli della categoria N2 N3 no è obbligo tutti non niente di consiglio ok? falso abbiamo messo l'ospedizionera per svolgere tale attività deve presentare un CIA segnalazione certificata di inizio attività alla CIA camera di commercio industriale artigianato o agricoltura vero? l'eventuale verdità del carico deve essere tempestivamente segnalata ove non sia possibile l'immediata rimozione occorre immediatamente informare della caduta in funzione del PRA pubblico registro automobilistico falso ai fini della normativa sull'uso del tachigrafico la pulizia del veicolo non è considerata altra mansione falsa è considerata i danni per atti vandalici sono risarcibili dell'assicurazione RCA responsabile civile automobilistica atti vandalici? atti vandalici? i danni per atti vandalici sono risarcibili dell'assicurazione RCA responsabilità civile automobilistica sei sicuro? falso secondo me non lo so allora l'aumento del traffico dovuto alla consegna che percorrono l'ultimo miglio non risvolti ambientale falso allora l'aumento del traffico dovuto alla consegna che percorrono l'ultimo miglio non risvolti ambientali falso la lezione allora la lezione alla vista determinata dall'accidentale contatto con il materiale corrosivi il trasporto costituisce l'infortunio sul lavoro vero a bordo dei veicoli eccezionali deve trovarsi la licenza comunale per l'esercizio del servizio falso il non corretto orientamento delle fasce di luci del proiettore può dipendere del fusibile di fotoso fusibile di fotoso fusibile di fotoso assorbe il 10% del consumo totale di petriolio falso nel trasporto di fusti, bombele o bidoni è necessario utilizzare accorgimento per evitare il rotolamento sul piano di carico del veicolo vero? il condicente di un'impresa di autotransporto per contribuire alla qualità del servizio deve comunicarne in azienda eventuali problemi che possono insorgere durante l'esecuzione del servizio vero? l'esposizione a polveri e sostanze nocive aumenta il rischio per la salute del condicente professionale vero? l'impianto frenante olio pneumatico è un munito di distributore duplex vero? olio pneumatico distributore duplex la resistenza aerodinamica all'avanzamento è direttamente proporzionale alla potenza massima del motore falso? la sostenibilità del sistema transbordo non è influenzata della rete transeurobea di transbordo falso? nell'ambito della sicurezza sul lavoro per valutare il rischio non occorre entrare nel merito della probabilità che il danno possa accadere falso? prima di partire occorre assicurare che i portelli dei passi da uomo collegati nella parte superiore della cisterna siano correttamente chiusi per evitarne la fuoriuscita della merce transbordata vero? il foglio di registrazione del tachigrafico analogico deve essere combilato solo alla fine del periodo lavorativo falso? il foglio di... allora percorrendo una curva i veicoli cisterna sono associati al fenomeno della dispersione del carico a causa dell'espantamento laterale del liquido trasportato a dispersione? percorrendo una curva i veicoli cisterna sono associati al fenomeno della dispersione del carico a causa della... no cisterna è dispersione falso? la CMR convenzione sul contratto di autotransporto internazionale di merci si applica al transbordocambinato sei sicuro? CMR transbordocambinato vero l'accordo UE-Regno Unito non prevede quantità numeriche reciprocche limitate di autorizzazione per svolgere viaggi falso? perché prevede il controllo dei veicoli al fine di scongiurare l'ingresso illegittimo di cittadini stranieri avviene normalmente tramite sistemi sacralitari falso? in caso di aggressione furti rabbine si può presentare danugia alla campagna di assicurazione o in alternativa la forza dell'ordine falso? nel caso di danni alle persone, al materiale o ad altre merci si debbano sostenere spesso causati dall'improfessione dell'implaggio o da un difattoso ad inadaguaggio fisaggio delle merci sul veicolo la responsabilità del vettore anche quando ha segnalato sulla lettera di vettura l'anomalo riscontrato è falso? perché se ha segnalato non ha responsabile la sostenibilità del sistema transbordocambinato richiede lo sviluppo dell'intermodalità vero? il limitatore di velocità obbligatorio per tutti gli autocari con massa a pieno carico superiore 3.5 tonal tutti autocari sei sicuro? secondo me è vero la modalità di transbordo su gomma si caratterizza per l'assicurazione di servizio porta a porta su gomma vero? le principali difficoltà del sistema di transbordo europeo sono dovuti alla crescita squilibrata delle diverse modalità di transbordo vero? gli infortuni derivanti della movimentazione del carico non rientrano tra i rischi professionali del conducente falso? vai avanti la modalità di transbordo su gomma si caratterizza in certi casi per la tempestività e l'efficienza del servizio vero? l'uso dell'aria condizionata durante la guida può essere causa di stress psicofisico per il conducente professionale falso? l'autorizzazione 100 sono rilasciate agli spedizionari adagonali che le affittano di volta in volta all'impresa che questi incaricano di effettuare il transbordo falso? l'uso di sostanze stuboefficienti crea dei danni irreversibili alle cellule cerebrali nell'ambito dei sistemi di diagnosi e previsione del traffico lo sviluppo di tecnologia di identificazione dei veicoli consente la misura diretta dei tempi di percorrenza di una cambione di veicoli allora una cambione di veicoli allora ragazzi questa è l'ultima domanda questa cosa è io leggo veloce però speriamo che non abbiamo sbagliato tanti eh vediamo il risultato ok subito senza quattro magari per forza mmm tre abbiamo sbagliato? non è quattro tre vediamo quale sono allora vedete abbiamo sbagliato 19 il sistema telematico per il trasporto possono permettere al gestore di flotte di conoscere la situazione dei veicoli o mezzi determinate le rotte più efficienti ho messo falso invece era vero no? poi 25 vediamo cosa è il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza dell'impianto frenante ho messo falso e invece era vero la terza la terza 66 no 57 l'accordo UE regno unito non prevede quantità numeriche reciproche limitata di autorizzazione per svolgere viaggi vero? io ho messo falso mannaggia va bene ci vediamo alla prossima la prossima volta faremo 67 ok? 67 ciao ciao